Allora, eccoci insieme cari telespettatori, il dottor Pierpaolo Pavan, direttore del servizio dell'igiene alimenti e della nutrizione dell'Uslotto Berica è qui con noi per supportarci con i suoi pareri medici scientifici molto preziosi, grazie dottore. Grazie a voi per l'invito. Allora, ne abbiamo già parlato anche in altre occasioni e circostanze, però come si dice Repetita Juvent, insomma parlare della corretta e sana alimentazione non bisogna stancarsi mai perché poi a forza di sentire certe informazioni mediche, scientifiche, eccetera, qualcosa si introietta, qualcosa si riesce anche ad attuare, nel modo cerchiamo meno difficoltoso possibile perché poi dalle mail che sono arrivate dai nostri telespettatori, della scorso appuntamento che abbiamo fatto, emerge la grande difficoltà e in questo momento tante persone non hanno la pazienza di subire altre restrizioni, oltre a quelle che già ci sono, quindi c'è una sorta di intolleranza che porta purtroppo a sgarrare sotto diversi profili. Allora, corretta alimentazione, che cosa vuol dire? E quindi quali sono anche gli errori frequenti da evitare, le false credenze, cibi miracolistici, miracolosi che vengono proposti anche su web, improvvisamente ti arrivano dei messaggi, questo ti farà sanare d'animale. No, no, queste sono cose molto importanti da dire perché purtroppo nel campo dell'alimentazione in particolar modo ci sono molte fake news, tutti si sentono autorizzati a dare consigli, molte sono persone anche interessate a un certo mercato che c'è in questo campo e in questo periodo di grande confusione e incertezza si rischia veramente di fare dei gravi errori. Allora, diciamolo subito e con chiarezza, non esistono dei cibi che sono in grado di proteggerci dall'infezione da coronavirus, di impedirci l'infezione di questo virus e quindi tutto quello che noi sentiamo, vitamina C, ad alte dosi, altri alimenti miracolosi, tutto questo fa parte di una errata convinzione e quindi noi dobbiamo chiarire subito che non c'è un cibo miracoloso. E' quello che do una cosa però che l'ha detto, perché c'era stata una ricerca che mi sembrava accreditabile perché i fondamenti scientifici c'erano dopo, io apro le mani perché in questo punto non sono medico, che diceva che è riscontrato le persone che hanno più vitamina D hanno meno possibilità di incappare in queste infezioni, perché hanno riscontrato che coloro che invece sono avuto dei graviamenti... Lei è sempre molto preparata su questo campo e le faccio i miei complimenti, infatti io ho detto vitamina C, perché qualcuno ha parlato della vitamina C che ci è legata un po' ai raffreddori, quella no, quella no. Sulla vitamina D invece, questo sì, ci sono degli studi che ci dicono che la vitamina D quando è carente, attenzione quando è carente, può comportare una compromissione del sistema immunitario. Allora non è che noi dobbiamo caricarci di vitamina D, perché a dosi alte la vitamina D è tossica. Quindi noi dobbiamo... Questo è importantissimo dirlo, perché adesso magari le persone vanno, vum, vai con la vitamina D. Allora noi sempre quando vediamo i pazienti in ambulatorio, i pazienti obesi, sovrappesi, dove abbiamo spesso carenze di vitamina D, perché la vitamina D si perde nel tessuto adiposo, essendo liposolubile, dosiamo la vitamina D. In base ai valori che troviamo diamo un'integrazione. Quindi in questo caso è opportuno fare delle integrazioni ragionate, misurando i valori. È chiaro che in un periodo invernale, dove siamo chiusi in casa, dove non abbiamo esposizione al sole, non abbiamo la possibilità magari di metterci in giardino a prendere il sole, è facile che ci sia una carenza di vitamina D, per cui modeste supplementazioni di vitamina D potrebbero essere utili. Ma questo non ci dà garanzie di evitare il contagio. No, no, assolutamente. Ci dà semplicemente delle difese migliori. Questo però mi porta a dire una cosa che abbiamo detto anche precedentemente nella scorsa trasmissione, cioè una corretta alimentazione, una buona forma fisica, vogliono dire sistema immunitario più efficiente, quindi maggiori capacità difensive in senso generale della malattia infettiva, ma soprattutto nel caso di infezione abbiamo la possibilità di superare meglio l'infezione, perché le difese sono più attive, perché noi abbiamo meno complicanze respiratorie, dicevamo l'altra volta che una persona obesa o sovrappeso ha una forma di restrizione polmonare, cioè i polmoni fanno fatica ad espandersi e quindi se i polmoni sono anche colpiti da una grave infezione, una broncopolmonite virale, l'obesità diventa una complicanza nella complicanza. Quindi la raccomandazione che facciamo sempre è cerchiamo di essere in buona salute, ma cerchiamo per essere in buona salute di mangiare bene e di fare un stile di vita sano. Sull'attività fisica non possiamo farla all'esterno, cerchiamo di farla un pochettino all'interno della casa. Quindi può servire anche all'interno. Assolutamente sì. È necessario, e qui mi collego all'attività fisica, attività diciamo così ad alto impatto oppure quindi aerobica, oppure anche sufficiente i pesi, quindi muscolare? Allora sicuramente qualsiasi tipo di attività fisica svolge un ruolo positivo, quindi se vuoi fare attività aerobica fai attività aerobica, se vuoi fare attività con pesi fai attività con pesi, mi viene da sorridere perché ieri mio figlio ha cercato di comprare su internet due manubri per fare un po' di pesi, non ce ne sono più, cioè veramente è difficilissimo trovarli perché c'è stata una richiesta altissima e quindi vuol dire che meno male le persone si stanno attrezzando per fare un po' di attività a casa e questo è un dato positivo, speriamo che anche l'industria riesca a soddisfare queste esigenze che sono diventate veramente esplosive, tutti vogliono i manubri a casa e invece non si trovano. Quindi ricapitolando, attività fisica va bene sia aerobica che non aerobica, di resistance cioè con pesi, l'ideale è fare tutte e due ma altrimenti vanno bene entrambe. L'importante, lo ricordo sempre, è che l'attività fisica ha lo scopo soprattutto di mantenere tonico e trofico il muscolo che è un tessuto prezioso, è un termoreatore metabolico, l'attività fisica non è importante per quello che consumiamo durante l'attività fisica ma perché ci tiene attivo l'apparato muscolare che è uno dei tessuti più preziosi che noi dobbiamo preservare anche durante le diete. Quindi variare il tipo di esercizi, vabbè adesso limitatamente è quel che si può fare. Certo, è sempre una buona cosa. La prima regola quando io prescrivo l'attività fisica ai miei pazienti è fai una cosa che ti piace. Io sono appassionato di sci, adesso purtroppo non posso farlo ma se vado a sciare faccio qualsiasi sacrificio. Quindi se tu fai una cosa che ti piace è molto facile che tu la faccia. Dopodiché cerca di farla con un'adeguata intensità, almeno 1500 calorie in attività fisica alla settimana, che vogliono dire 4 ore alla settimana, non sono poche. Dobbiamo tendere a questi livelli. Poi se vuoi fai un misto, fai un po' di aerobica e un po' di attività con pesi, ma comunque fai qualcosa che ti fa sudare. Quindi sudare. Sudare. Quello potrebbe essere un campanello di feedback positivo, perché molte volte uno si limita a una passeggiatina col cane ed è convinto di aver fatto attività fisica. In realtà tutto fa bene anche la passeggiatina col cane, ma gli effetti strong ci sono quando l'attività arriva ad essere di una certa intensità, sia come intensità di frequenza cardiaca, sia come intensità di lavoro. Parliamo di 1500 calorie a settimana, voglio dire un'attività aerobica sono 3-400 all'ora, quindi 2 ore a settimana sarebbero poche. Sarebbero poche. Certo, meglio che niente ci accontentiamo anche di 2 ore a settimana. Adesso siamo chiusi in casa, facciamo la ciclette se l'abbiamo, facciamo l'esercizio a corpo libero se abbiamo dei pesi, prendiamo delle bottiglie di acqua minerale se non abbiamo i pesi, però cerchiamo di tenerci attivi. Questo ci consente anche di organizzarci la giornata e di passarla, altrimenti le giornate sono molto lunghe. Assolutamente sì. Per le persone invece più anziane, che adesso veramente la situazione è un po' disastrosa, nel senso che non possono uscire da molto tempo, soprattutto parecchio anziane, non camminano, camminano pochissimo, che cosa sarebbe sufficiente fare per mantenere la mobilità? Perché tanti lamentano questo, cioè star sempre seduti sul divano, hanno letto tante ore, tutto diventano immobilizzati. Certo, c'è una sindrome proprio da allettamento negli anziani che si crea perché noi non ci muoviamo e perdiamo capacità fisica. Dico sempre, il muscolo è una pianta, il concime è l'alimentazione, l'acqua è in movimento, se tu non dai l'acqua la pianta muore. Allora, cosa deve fare l'anziano? Beh, intanto abbiamo degli anziani in buona salute che possono fare anche loro attività motoria con pesi, piccoli pesi o con una cyclette, va benissimo. Se poi l'anziano ha delle difficoltà, comunque attività di stretching, attività di mobilizzazione, anche muoversi per casa, non stare sempre a letto, magari guardare la televisione a letto o sul divano. Fare dei giri per casa, fare dei movimenti, fare delle pulizie, quindi tenersi attivi. E ricordiamoci che l'attività fisica ha un effetto molto positivo anche sulla testa, si diceva mensana in corpore sano. Antidepressivo. Noi abbiamo fatto anche l'anno scorso degli studi sui malati psichiatrici e abbiamo visto che l'attività motoria regolare, costante e adattata alle loro capacità produce dei benefici anche sul benessere fisico, ma anche sul benessere mentale, perché libera endorfine e ha un effetto tra virgolette antidepressivo. Per cui noi sappiamo che oggi anche i psichiatri hanno capito l'importanza dello stile di vita e quindi danno più attenzione all'alimentazione e all'attività fisica. Tenendo conto che molti dei farmaci che vengono usati in psichiatria, specialmente gli antidepressivi, hanno degli effetti un pochettino contrastanti sul mantenimento del peso, perché fanno mangiare cose dolci, aumentano la compulsività sul cibo e abbassano il metabolismo. Tutto questo porta a un aumento di peso importante in questi pazienti che è stato visto essere presente soprattutto nei primi tre anni dall'inizio delle terapie. Quindi noi dobbiamo, contestualmente all'inizio della terapia, anche cercare di lavorare sullo stile di vita. Ecco, letto quanto riguarda il metabolismo e quindi anche il lavoro della tiroide. In moltissime persone la tiroide non funziona a dovere, diciamo così, e di conseguenza ci sono disturbi del metabolismo, quindi il metabolismo un po' rallentato, alcuni ce l'hanno accelerato per carità, però insomma queste sono altre. Come fare, quando ci può essere un alert? Quando noi vediamo i pazienti in ambulatorio, controlliamo gli ormoni tiroidei, al limite basta solo controllare il TSH, perché il TSH ci dice se c'è un deficit della tiroide che può spiegare l'abbassamento del metabolismo, però devo dirle che sulla mia esperienza i casi di obesità e sovrappeso ascrivibili a un disturbo tiroidei non sono tantissimi. Quindi tranquillizziamo da questo punto di vista. Sì, siamo molto tranquilli perché ho il metabolismo basso, questo è quello che ti dicono, ma in realtà molte volte non è così basso come il paziente crede, noi lo misuriamo sempre e vediamo che il paziente crede di averlo basso, ma in realtà mangia male, mangia cibi ad alta densità energetica, il suo metabolismo è normale, ma lui mangia veramente tanto e l'altra questione è il metabolismo si tiene su con l'attività fisica, sia perché ci fa consumare un po' di più, ma soprattutto perché ci tiene tonico-trofico il muscolo e il muscolo lavora 24 ore su 24, ecco perché l'attività fisica è importante, perché il metabolismo è più alto in un paziente che ha delle buone masse muscolari, quindi noi, ripeto, dobbiamo occuparci non solo del grasso ma anche del muscolo e per occuparci del muscolo l'attività fisica è l'unica arma a nostra disposizione. Assolutamente, quindi questo risulta importantissimo. Ricordo anche che l'invecchiamento è legato alla perdita di muscolo, l'invecchiamento è perdita di acqua e perdita di muscolo, è l'unica cosa, anche di acqua, io dico che a volte l'invecchiamento è un lento disidratarsi, in realtà l'invecchiamento è perdita di muscolo, ma perché? Perché noi facciamo poca attività fisica, noi perdiamo muscolo, questo è inevitabile col passare degli anni, ma se noi facciamo attività fisica ne perdiamo meno e restiamo più giovani e più efficienti, quindi anche qui ancora una volta l'importanza di un'attività fisica regolare e continua, che deve essere continua e regolare soprattutto nelle persone dopo i 40 e dopo i 50, perché a 20 anni puoi anche saltare qualche allenamento, a 40 e 50 devi essere assolutamente regolare. Ah, quindi la regolarità è importante, perché magari non dici quando il momento mi metto a fare in prossimità della primavera, riprende la bella stagione, vabbè, possiamo perdere adesso, però comunque... Allora, l'attività fisica è un farmaco, questo è indubbio, lei non prenderebbe mai un antibiotico a spot, prenderebbe un antibiotico, oggi una pastiglia, domani un'altra, poi salto, l'antibiotico ha preso ogni 8 ore con regolarità per 5, 10, 15 giorni, ecco l'attività fisica è la stessa cosa, per produrre gli effetti deve essere assunta regolarmente, assunta in maniera sporadica può dare solo effetti negativi, è la regolarità che produce gli effetti, così come è la costanza nel mantenimento delle regole attuali che produrrà effetti sull'infezione del coronavirus, ma solo la costanza produce risultati e così anche l'attività fisica, la costanza dell'attività fisica produce grandi risultati, grandi risultati. Grandi, quindi grandi soddisfazioni da questo punto di vista. Assolutamente. Poi sempre a proposito di grandi teorie, c'è chi dice tanti piccoli pasti per tenere sempre attivo il metabolismo, per cui spezzettare invece che arrivare da colazione, pranzo, addirittura saltare il pranzo alla cena, ma qualcosa di più. Altri invece dicono no, l'intervallo del digiuno intermittente, non so, 48 ore di digiuno rispetto a questo attivo metabolismo. Insomma c'è di tutto e di più. Dove sta? Allora, lei ha toccato tanti temi anche molto interessanti che richierebbero anche degli approfondimenti a sé stanti, magari ne parleremo in qualche altra occasione. Allora, intanto quella che lei dice è il tempo per mangiare, che è una delle regole fondamentali per mangiare bene. Le regole per mangiare bene sono la quantità e non dobbiamo farci ingannare dal volume dei cibi. Ci sono cibi a basso volume e ad alta quantità di energia, e cibi ad alto volume e con poca energia. La qualità, che è la miscela, cioè il rapporto fra carboidrati, proteine e grassi, e qui che ne dicono tanti ciarlatani, la dieta mediterranea resta fondamentale per la salute delle persone, e nella dieta mediterranea ricordo che il 60%, cioè più della metà di quello che io mangio in un giorno, deve essere fatto da carboidrati, che non sono gli zuccheri semplici che mettiamo nel caffè o nei dolci, ma sono il pane, la pasta, poi c'è la frutta, la verdura, la carne è più in alto, il pesce è più in alto, i grassi sono più in alto, i dolci sono nella cima della piramide. Invece noi mangiamo dolci tutti i giorni e pane e pasta una volta alla settimana. Quindi il pane e pasta ok? Assolutamente sì. Magari scegliamo la qualità del pane, prendiamolo con farine non raffinate, prendiamolo con farine integrale, magari con il lievito madre, che abbassa ulteriormente l'indice glicemico, ma il pane è un alimento sano e che deve far parte della nostra alimentazione e ancora di più la pasta, che invece le signore che vengono dietro a me mangiano una volta alla settimana. Quasi fosse un peccato di gola. Eh sì, perché questo è... Ma la brioche tutti i giorni, ecco, questa è la cosa. E poi c'è il tempo per mangiare quello a cui lei accennava, e cioè come dobbiamo distribuire l'assunzione di energia nell'arco della giornata. Allora, una regola fondamentale è intanto evitare unici pasti. Fare un unico pasto la sera, come fanno molti pazienti oggi, è sbagliatissimo, produce un accumulo di peso, un accumulo di grasso anche viscerale. Io faccio il pieno di benzina alla sera quando metto la macchina in garage. I nostri nonni, i contadini, a colazione, pranzo, alla sera, una cena molto frugale, andavano a letto. Poi, un'altra cosa, ieri ho fatto una lezione sulla digeribilità degli alimenti. Allora, una delle regole banali per non sentirsi pesanti è non fare le grandi mangiate, perché l'intestino deve processare una grande quantità di cibo. Se io fraziono i pasti, io riesco a far lavorare meglio il mio intestino e tengo anche attivo il metabolismo. Poi tocchiamo il tema del digiuno, che è un tema molto discusso, che ha comunque delle fondamenti di ricerche scientifiche molto serie. Vorrei ricordare che i topolini magri vivono di più dei topolini grassi. Vorrei ricordare che il digiuno è presente in molte religioni, come pratica depurativa. Il professor Longo l'ha studiato, l'ha proposto, eccetera. Noi l'abbiamo anche un po' riadattato in modo italiano. Cosa c'è di vero? Di vero c'è, per esempio, mangia poco dopo le 5 del pomeriggio. Invece, guarda caso, noi mangiamo tantissimo alla sera e magari molto tardi. Invece dobbiamo evitare di fare un grosso concentrato di energia, di alimenti, tutti alla sera, quando il metabolismo per un ritmo circardiano scende ai minimi. Quindi non dico di saltare la cena, ma dico di fare una cena moderata, modesta, come i nostri nonni contadini. E questo è molto bene. Poi, se qualcuno vuole utilizzare la pratica del digiuno per un effetto depurativo, deve uno pensare che il digiuno non fa dimagrire. La dieta del digiuno non è per dimagrire, è per depurare l'organismo. Sono due cose molto diverse. Saltando i pasti, io non calo di peso. Io devo fare dei pasti adeguati, ben studiati da un nutrizionista e non saltarli. Anzi, se faccio dei digiuni sbagliati, il metabolismo basale si abbassa perché il nostro corpo dice che c'è meno cibo, io sono un animale, se c'è meno cibo per difendermi abbasso il metabolismo. Il digiuno però, ben fatto, sotto controllo medico, studiato nelle giuste misure, può essere fatto una volta ogni sei mesi, una volta all'anno, una volta ogni quattro mesi, per depurare il nostro organismo. Però deve essere fatto sotto controllo medico, con attenzioni e non fai da te. Perché il digiuno fai da te, non va bene. Ecco, questo per quanto riguarda la pratica del digiuno e per quanto riguarda il timing dell'assunzione. Certo. Delle famose tisane, drenanti, depuranti che ci sono in giro. Viene da ridere perché lei deve sapere che ai miei pazienti do una lista di erbe per fare delle tisane. Lo scopo con cui le do è soprattutto quello di farli bere. Perché soprattutto nella dieta, se ben fatta, all'inizio c'è una diuresi che aumenta molto e quindi tu devi rintrigare questi liquidi. Berlo con delle tisane ti aiuta a bere un po' di più. Allora lei deve sapere che io davo una serie di erbe drenanti, ben note in tutti i testi di fitoterapia. Ma ormai sono andato un po' famoso e hanno creato la tisana del dottor Pavan, che è un po' come la varro medicinale Giuliani. In realtà io non ho fatto niente, non ho scoperto niente, ma in qualche posto la vendono con il mio nome, in maniera assolutamente abusiva. No, le tisane vanno bene. Le tisane vanno bene perché sono dei sistemi per aiutarci a bere di più e anche noi siamo per aiutarci a liberarci dei liquidi in eccesso. Attenzione però, non dobbiamo ricorrere ai diuretici. Io ho dei pazienti che per perdere peso prendono diuretici. E lassittivi. C'ho delle signore che hanno le gambe grosse e prendono il lasix. Io ricordo una mia paziente di 24 anni che aveva le gambe leggermente grosse e un medico gli ha dato 4 lasix al giorno. È un danneggiare i reni. No, noi dobbiamo eliminare l'acqua bevendo l'acqua. Più acqua entra nel nostro corpo, più acqua esce. Se io invece utilizzo i diuretici, magari faccio delle restrizioni idriche, faccio un disastro oltre a danneggiare i reni. Ecco però le tisane e le erbe sappiamo che sono dei medicinali, comunque sono fitofarmaci, quindi attenzione. Anche su questo bisogna stare molto attenti. E possono interagire con alcuni farmaci. Esatto, possono interagire con alcuni farmaci. Ci sono molti prodotti erboristici che hanno delle interferenze importanti. Nella scorsa trasmissione parlavamo dell'associazione curcuma Piper. Il Piper blocca il citocromo P450. Questo consente l'assorbimento della curcuma. Però blocca il citocromo P450 che è uno snodo per tantissimi farmaci. Per cui devi prenderlo distanziati da altri farmaci. Insomma, in buona sostanza, anche con i prodotti fitoterapici, è bene consultare il proprio medico. Sia il medico di medicina generale, sia lo specialista, per essere sicuro di usare un prodotto di qualità, di utilizzarlo nel modo giusto, per il tempo giusto e che non dia effetti avversi in relazione ai farmaci che magari assumiamo. Quindi su questo io insisto sempre molto. Abbiamo prudenza. Non pensiamo perché si tratta di prodotti vegetali che sono innocui. Infatti questa è un po' la credenza diffusa. Oppure quando magari si va da un medico o possiano dei problemi, informare che si prendono anche dei farmaci di questo tipo. Assolutamente sì. Bisogna sempre dirlo perché magari il medico non sa che noi prendiamo anche degli integratori fitoterapici e questi possono danneggiare fortemente i nostri farmaci. Anche il succo di pompelmo è uno di quelli che crea soprattutto le nostre interazioni. Con che cosa in particolar modo? Ma sono molti farmaci che vengono... Annientati praticamente. Sì esatto, neutralizzati. Anche farmaci cardiovascolari. Quindi bisogna stare molto attenti e non pensare che il succo di pompelmo sia miracoloso. assolutamente no. E quindi bisogna stare molto attenti. Perfetto. Lei diceva integratori vari. Ci sono degli integratori che, non so, il magnesio anziché lo zinco che possono essere non dannosi e utili per l'integrazione alimentare. Adesso magari con il cambio stagionale per rinforzare i capelli o la pelle, non lo so. Allora, diciamo che... Perché c'è tanta diffusione anche di questi. Esatto. Diciamo che gli integratori... il primo integratore è una corretta alimentazione. Anche perché le sostanze contenute tipo vitamine, micronutinenti, antiossidanti, contenute nelle matrici alimentari non sono replicabili in pillole. Allora, noi sappiamo che mangiare due porzioni di verdure e tre porzioni di frutta al giorno è la migliore prevenzione per il cancro. Ma se io prendo le vitamine, le metto su una pillola e... Non è la stessa cosa. Non è la stessa cosa. Perché... Questo è bene ricordarselo. Questo ricordiamolo sempre, ma questo è studiato, è documentato da studi scientifici. In questo senso, per esempio, sono molto interessanti i germogli. I germogli, non so se ne abbiamo parlato, rappresentano dei prodotti naturali che possono arricchire un'insalata che contengono principi nutritivi in elevata quantità. Per esempio, i germogli dei ceci contengono ferro di origine vegetale 300 volte più di altri prodotti vegetali. Dove si trova questi germogli? I germogli, guardi, adesso ci sono alcune aziende che li stanno producendo. Bisogna stare attenti perché il germoglio va prodotto con regole di assoluta igiene, altrimenti può diventare un terreno di cultura dei batteri. Quindi non è che vai dal fruttivendolo che trovi i germogli? No, no, li devi trovare. Però ci vogliono aziende che li stanno preparando. Adesso di cui non voglio fare pubblicità di aziende che stanno investendo molto sui germogli. Ma per esempio un vegetariano che ha difficoltà ad assumere ferro perché nei prodotti vegetali il ferro c'è poco ed è poco biodisponibile, se arricchisce la sua insalata con dei germogli di ceci per esempio o di altri prodotti vegetali, ha del ferro che è molto più biodisponibile e molto più concentrato. Ma ho fatto questo ragionamento dei germogli per dire che sono proprio gli alimenti naturali ad essere i migliori fornitori di micronutrienti. Dopodiché, sempre evitando il fai da te, ma sul controllo medico, possiamo fare delle integrazioni mirate e dosate, sempre però senza superare quella che si chiama RDA, la dose raccomandata giornaliera. Io ho bisogno di 60 mg di vitamina C, ne posso prendere 100 mg, ma non ne posso prendere un grammo, perché un grammo fa male, ok? E quindi gli integratori vanno... Si intenzione a milligrammi e grammi. Esatto, milligrammi e grammi sono cose molto diverse fra di loro. Io ho bisogno di 50 mg al giorno, che sono 2-3 kiwi, 2-3 arance, ma posso prendere anche 100 mg, non succede niente, ma se ne prendo un grammo, allora la cosa cambia drasticamente, può diventare pericolosa. Per quanto riguarda i capelli, perché questo adesso è il periodo che comincia, le cause organiche devono essere queste da esplorare, la mancanza di ferro, quindi fare una ferritina per vedere se una donna magari ha poco ferro perché ha mestruazioni abbondanti o perché non mangia assolutamente prodotti che contengono ferro, gli ormoni tiroidei, perché se ho un'alterazione di ormoni tiroidei i capelli ne risentono e queste sono le cose da verificare prima di fare un'eventuale integrazione. Se hai un problema di ferro o di ormoni tiroidei, correggi questa cosa. Poi possono essere cause di tipo ormonale, genetico, su cui non abbiamo integratori a disposizione. Meglio rivolgersi a un bravo dermatologo che saprà consigliarti lo shampoo giusto, l'integratore giusto e non fare il fai da te. E non fare il fai da te, quindi andare in erboristeria oppure in parafarmacia. Io direi sempre consultare il medico, consultare lo specialista perché questi prodotti non sono tutti uguali e soprattutto non sono tutti efficaci e non tutti possono risolvere i nostri problemi. Anche se io sono un convinto assertore dell'utilizzo dei prodotti naturali come terapia, in molti casi adiuvante la dietoterapia. Assolutamente. L'altra cosa, per lei hai parlato dei capelli, anche le unghie, molte persone... Ferro, molto spesso legato a una fragilità delle unghie, può essere legato a una carenza di ferro. E anche qui, attenzione, l'esame da fare, unico e semplice, è la ferritina. Fare un dosaggio della ferritina ci permette di vedere se per caso c'è da integrare il ferro. E lo possiamo fare in questo caso anche qui scegliendo prodotti farmaceutici seri che possono permetterci di... E tenendo sotto controllo la ferritina per vedere di superare quei 10 mg che rappresentano un po' il cut-off. Ma la classica, rifacendosi con le ricette della nonna, il fegato, la classica bistecca di fegato, di cavallo... Allora, diciamo che io sono... Se io devo suggerire un alimento che contiene ferro in buona quantità e che sia anche leggero e che sia non ricco di grassi e altre cose, il prosciutto crudo. Il prosciutto crudo? Ah, sì, sì. Io su prosciutto crudo sono un fautore, parliamo del prosciutto crudo di qualità, italiano. Ha tolto il grasso, quindi? No, no, perché lei deve sapere che il prosciutto crudo di qualità è fatto con le cosce pesanti del maiale che viene oggi alimentato in maniera molto sana. Il maiale pesante emiliano, non maiali di altre nazioni alimentati con mangimi, eccetera. Ma il maiale pesante emiliano viene alimentato con soia, siero di latte e altri alimenti vegetali. Per cui le carni oggi sono molto meno ricche di grassi saturi e più ricche di grassi monoinsaturi e polinsaturi. Quindi, allora, un etto di prosciutto crudo sono 250, 260, 280 calorie. La quantità di grasso è assolutamente bassa ed è grasso di buona qualità. Perché poi non è vero che tutti i grassi ci fanno male. Ci sono anche i grassi buoni, gli omega 3, i monoinsaturi. E non sono solo i grassi saturi, ma nel prosciutto crudo ce ne sono pochi. Nel prosciutto crudo ci sono le proteine ad alto valore biologico che contengono ferro M. E questo ferro M è molto biodisponibile. Tra l'altro il prosciutto crudo è molto digeribile perché è stagionato. Allora, se lei mangia una fiorentina, magari la digestione è un po' impegnata, un po' lunga, un po' difficoltosa. Si mangia un bel letto di prosciutto crudo, lo digerisce molto bene ed è un ferro molto biodisponibile. Va bene anche per gli anziani che hanno problemi di masticazione, a differenza della carne che può essere difficile quando uno ha problemi dentali. Va bene per i bambini che non affrontano la carne e che hanno un po' di inappetenza, magari dopo qualche influenza. Quindi il prosciutto crudo lo raccomando. Che non è la stessa cosa della bresaola? Che non è la stessa cosa della bresaola, anche se fra gli affettati che noi consigliamo nelle diete c'è il prosciutto crudo, il prosciutto cotto di alta qualità. Anche qui per riconoscerlo è bene vedere il taglio. Se tu vedi un prosciutto cotto marezzato, quelli sono fibre muscolari. E poi la bresaola può essere un terzo. Però fra tutti questi tre, il prosciutto crudo con una buona stagionatura, 18-24 mesi. Perfetto. Dottore, il tempo è volato. La prossima puntata dedicheremo ad altre problematiche, tra l'altro rispondendo anche a tante mail che sono arrivate a questo punto. La ringrazio moltissimo. Grazie a voi. Buon lavoro naturalmente. Ci vedremo presto la prossima settimana con un altro approfondimento. Quindi a voi lascio la pubblicità, poi ritorniamo insieme per continuare la nostra trasmissione. Tra poco.